Sono Mauro Pallotta, in arte MAUPAL. Io ho avuto un percorso fondamentalmente inverso a quello di tanti artisti urbani. Soltanto all'età di 42 anni ho avuto l'approdo nella street art grazie alla mia opera dedicata a Papa Francesco, dove lo rappresentavo come un supereroe. A gennaio 2021 venivo contattato dall'ufficio comunicazione della Guardia Costiera. L'idea era quella di collaborare per il calendario 2022. La Guardia Costiera La sfida mi è subito piaciuta perché poteva essere un cortocircuito, quindi la mia ironia è rapportata ad un'istituzione statale. In realtà più che una sfida è stata una sorpresa perché avere a che fare con tante professionalità diverse, che unite creano un unico corpo, servizio dei cittadini in difesa del mare, è stato davvero emozionante. Grazie a tutti. 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 Grazie.